Il teatro Astra deve entrare nella disponibilità dei bassanesi. Ormai in città sono tutti d'accordo, anche le forze politiche. È brutto vedere le immagini sia dell'interno del teatro, sia del tetto visto dal drone. Non crediamo che sia questa l'azione che si debba portare avanti. Bassano è una città importante, l'ottava città del Veneto, e crediamo che meriti un'attenzione a questi dettagli. Che dettagli non sono, perché una città con la tradizione culturale di Bassano ha bisogno di un teatro che sia all'altezza del nome. Dopo che l'amministrazione di Elena Pavana ha gestito, senza coinvolgere la città, situazioni delicate come la pavimentazione del Ponte Vecchio e il futuro della scuola Mazzini, ora sono i bassanesi a chiedere di essere coinvolti nel percorso legato al futuro del teatro Astra. È nostra convinzione che i beni simbolici, come può essere il teatro comunale, debbano essere sempre al centro di un percorso partecipato. Non possano essere ridotti ad azioni di governo e di amministrazione. Crediamo che la città voglia dire la sua, anche perché è una spesa importante, è un ragionamento a tutto tondo che va fatto sul teatro. La caduta del tetto recente è stata soltanto la scintilla che ci auguriamo faccia partire un ragionamento più complessivo.